Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per spegnere l'incendio di un mezzo pesante che trasportava un gruppo elettrogeno sull'autostrada del Brennero A22 in direzione sud nel comune di San Giorgio in provincia di Mantua, illeso l'autista. Impegnate sul posto squadre dei vigili del fuoco di Verona con un'autopompa e un'autobotte con il supporto di un'autobotte del comando di Mantua che in poco tempo hanno spento le fiamme ed evitato la propagazione del rogo all'auto articolato dovuto allo scoppio di un pneumatico. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa due ore.